Benvenuti. Dimenticate tutto ciò che pensate di sapere sulla seconda stagione di Endless Love, perché stiamo per svelare una verità che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Chi ha davvero ucciso Ozan? Nihan, dopo un'indagine estenuante insieme a Kemal, svela la verità dietro la morte di Ozan. I suoi sospetti iniziali puntavano su Zeynep, ma la realtà è ben più oscura. L'omicidio è stato orchestrato da una donna ancora più spietata e manipolatrice. La svolta decisiva arriva grazie a Gurkan, un uomo legato ad Asu che confessa di essersi travestito da medico per entrare nella stanza di Ozan e somministrargli una dose letale di veleno. Questo colpo di scena getta nuova luce sugli eventi e rivela la vera natura di Asu. Ma non è tutto. Mujgan cerca disperatamente di riportare la pace tra Emir e Asu e scopre qualcosa di sconvolgente. Nel frattempo, Kemal, il protagonista dalla determinazione feroce, comincia a nutrire sospetti su Asu riguardo all'omicidio di Ozan. Questi sospetti emergono quando scopre dettagli inquietanti sul passato di Asu e le sue possibili motivazioni. La sua determinazione a scoprire la verità si intensifica ulteriormente quando viene a conoscenza di Gurkan, l'unico uomo che conosce la verità sull'omicidio di Ozan. Questo intreccio di relazioni FA si che Kemal non possa ignorare l'idea che Asu possa essere l'artefice del crimine. Consapevole che il tempo è cruciale, Kemal elabora un piano per scoprire la verità. Sa che Gurkan è gravemente malato e dipende dalle sue medicine per sopravvivere. Deciso a ottenere le informazioni necessarie, Kemal decide di catturare Gurkan e di usare la sua medicina come leva. La minaccia è chiara. Se Gurkan non rivelerà la verità su come è morto Ozan, non Jili darà il medicinale vitale. L'incontro tra Kemal, Nihan e Gurkan è carico di tensione. Gurkan, consapevole della sua precaria situazione, si trova davanti a una scelta difficile. Mentre Kemal e Nihan aspettano con il fiato sospeso, ogni secondo sembra un'eternità. La rivelazione di Gurkan potrebbe cambiare tutto, portando alla luce i segreti nascosti e finalmente rendendo giustizia a Ozan. Ma proprio quando sembra che tutto sia perduto, Gurkan cede alla pressione e rivela che l'assassina di Ozan è Asu. Gurkan descrive dettagliatamente il suo ruolo nell'omicidio. Travestito da medico, ha iniettato il veleno ad Ozan dopo la lavanda gastrica. Tuttavia, Gurkan non sa chi abbia successivamente impiccato Ozan. Diventa evidente che Asu ha orchestrato l'intera vicenda, possedendo i video della giornata e inviando quello incriminante di Zeynep a Nihan e Kemal per sviare le indagini. A questo punto vogliamo sapere, cosa ne pensate delle rivelazioni finora? Chi pensavate fosse l'assassino prima di scoprire la verità? La rivelazione sconvolge Nihan e Kemal, che avevano erroneamente creduto che Emir fosse il responsabile della morte di Ozan. La verità, invece, si cela dietro la figura manipolatrice e spietata di Asu. La verità sull'omicidio di Ozan è finalmente venuta a galla e la mente dietro a tutto questo è la diabolica Asu. Ma la storia non finisce qui. Kemal, ora che conosce la verità, è determinato a ottenere giustizia per Ozan. Si trova intrappolato in un matrimonio senza amore con una donna pericolosa e vendicativa. Asu, diabolica e manipolatrice, minaccia di sabotare i suoi piani di divorzio dichiarando davanti al giudice di essere ancora innamorata di lui. La situazione si complica ulteriormente, lasciando Kemal in un limbo disperato. Kemal, noto per la sua tenacia e dedizione, decide di prendere misure estreme. Con l'aiuto di Nihan, cattura Gurkan e lo costringe a confessare tutti i dettagli dell'omicidio di Ozan. La minaccia di non dargli la medicina vitale mette Gurkan in una posizione disperata. Sotto la pressione, Gurkan cede e rivela che Asu è stata l'artefice dell'omicidio. Ma cosa pensate che farà Kemal ora? Riuscirà a portare Asu davanti alla giustizia o Asu riuscirà ancora una volta a sfuggire? Lasciateci le vostre teorie nei commenti.